Si chiamava Maria Chiara Rivarolo, la giovane madre di 29 anni che ha perso la vita nel tragico incidente di ieri sera sulla modica Beneventano, con lei anche il figlio di 11 anni. Crudeltà senza fine a Vittoria, dove l'associazione OIBA trova due giovani cani di razza Pitbull legati con una catena di un albero, uno purtroppo morto tra le mani dei volontari. Un parto fuori dal comune, quello di ieri pomeriggio all'ospedale maggiore di Modica, una donna decide di fare la doccia ed è proprio lì che mette al mondo una bimba di quasi 3 chili. Compro sotto casa perché mi sento a casa, questo è il claim scelto dal Comcommercio Ragusa per aiutare i piccoli imprenditori a sollevarsi dalla crisi economica. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione TG 74. Oggi apriamo il telegiornale con una triste notizia. È morta Maria Chiara Rivarolo, la giovane mamma di 29 anni, rimasta coinvolta ieri sera nell'incidente incontrata Beneventano a Modica. Il figlio di 11 anni era con lei e ha riportato una lesione alla spalla mentre il giovane era gusano con la quale ha avuto lo scontro frontale e resta in gravi condizioni. In tanti la conoscevano e nessuno riesce a darsi una spiegazione su una morte così improvvisa. Una madre giovanissima che stava per rifarsi una nuova vita in una casa da poco presa in affitto dove avrebbe vissuto con i suoi due figli. Si chiamava Maria Chiara Rivarolo, aveva 29 anni e amava la vita ma ancora di più i suoi bambini. Uno dei suoi figli, il più grande di 11 anni, si trovava in macchina con lei. Maria Chiara è morta nell'incidente di ieri sera incontrata Beneventano a Modica, deceduta poco prima della mezzanotte all'ospedale maggiore. In seguita alle gravi lesioni che aveva riportato nello scontro frontale fra la sua utilitaria e quella condotta da un giovane 24enne ragusano. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo del sinistro hanno trovato la donna in arresto cardiaco. A nulla sono valse le manovre rianimatorie e un lungo massaggio cardiaco. La donna è morta poche ore dopo. Ha riportato una lesione alla spalla il figlio undicenne, mentre verso in gravi condizioni il giovane ragusano, che era la guida dell'altra utilitaria, è stato operato nella notte e si trova al maggiore di Modica. Tanti messaggi di cordoglio sul profilo della giovane mamma. Quello più comune è la vita ingiusta. E lo è veramente, perché in un anno così terribile, dettato da tante privazioni, l'ultima cosa di cui avremmo avuto bisogno era un'altra scena di sangue dell'ennesima giovane. La donna e il figlioletto di undici anni sono stati estratti dai vigili del fuoco delle lamiere con torte del loro veicolo. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due congiunti e il conducente della Ford all'ospedale maggiore. Il 24enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è ricoverato in prognosi riservata. Il bambino, invece, è stato dimesso con una prognosi di tre settimane. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale. L'arteria, che collega Modica con Ispica e Pozzallo, è stata chiusa per alcune ore al transito veicolare. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del pauroso sinistro. Sono stati ascoltati alcuni testimoni, visionate le immagini della videosorveglianza. I due mezzi sono stati sequestrati. La salma della povera donna è già stata dissequestrata e restituite familiari. Lascia due bambini. Marechiara era separata e aveva deciso di ricominciare la sua vita. Aveva affittato una casa ed era scesa poco prima dell'incidente a Modica Bassa per prendere le chiavi della nuova casa. Quella casa dove sarebbero stati felici tutti e tre. Amava la vita, una ragazza gioiosa, imprevedibile. Amava l'azione, il pericolo, una ragazza schietta e amata. Amata soprattutto dalla sua famiglia, da suo fratello e dalle sue sorelle. Con cui passava molto tempo ed erano una alla forza dell'altra. Marechiara faceva la cassiera in un supermercato. Solo due mesi fa, sempre su quella strada, era morto Piero Modica, il giovane 28enne pozzallese, barista al prima fila. Il 6 gennaio, una donna di 44 anni, ucraina, la vittima del primo incidente mortale del 2020 nel territorio Ibleo. Il sinistro si è registrato sulla via Modica Ispica, incontrata a Beneventano. La donna è deceduta poco dopo lo scontro. Ancora un incidente stamani a Modica in via San Giuliano. Un'auto e uno scooter si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Sicuramente le condizioni meteorologiche non hanno aiutato. Ad avere la peggio, la ragazza scooter, che è stata subito trasportata all'ospedale Maggiore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per stabilire la dinamica dell'incidente. E' successo a Vittoria. Due pitbull sono stati trovati legati ad un albero. Una è morta tra le mani dei volontari, l'altra è grave. Intanto è stata esposta una denuncia contro i gnoti. Il referente provinciale dell'OI per Riccardo Zingaro dichiara di essere incredulo e di non riuscire mai ad abituarsi a questa violenza. E' morta tra le mani e le carezze dei volontari dell'OIPA, attenzioni che probabilmente non aveva mai ricevuto nel corso della sua breve vita. Quella che si è presentata nel pomeriggio di martedì ai volontari dell'OIPA è stata una campagna degli orrori. Due cuccioli di pitbull, un maschio e una femmina di circa due anni, sono stati trovati legati a due alberi con delle catene cortissime e logorate, senza riparo e solo con un po' di acqua accanto. I due cani erano costretti a vivere tra gli escrementi e sicuramente non mangiavano da settimane. La femmina è morta tra le mani dei volontari e a nulla è servito il disperato tentativo di salvarla. Il maschio invece è stato trasferito in un canile, ma rimangono gravi le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili urbani. Riccardo Zingaro, referente provinciale dell'OIPA, ha annunciato che presenterà denuncia contro i gnoti. A dieci metri dal ritrovamento dei due pitbull in via Loggia, periferia di Vittoria, c'è una casa, ma i residenti avrebbero detto di non essersi mai accorti della loro presenza. Il ritrovamento di questi cuccioli maltrattati e denutriti ha colpito il deluso Zingaro, che nonostante intervenga quotidianamente per salvare animali, non si abituerà mai a queste terribili scene. Su Facebook si è sentito di lasciare un messaggio. Abbiamo fatto di tutto per salvarti, piccola mia. Vicino a te, nei tuoi ultimi minuti di sofferenza, hai trovato le nostre mani che ti hanno acarrezzato in questa giornata gelida. E ancora, mi scuso io per tutti i miei simili che ti hanno ridotto in un cumulo di ossa. Un apprezzamento va anche a tutti quei volontari, che ogni giorno lottano e si preoccupano per questi esseri indifesi. L'augurio di Zingaro è che chi ha ridotto i due pitbull in questo stato venga trovato e paghi per quello che ha fatto, per chi possa servire da lezione a chi maltratta gli animali. Il problema è stato che lì vicino c'era un'abitazione, come ho scritto nella denunzia, e la gente è omertosa verso queste cose. Quindi il mio appello è a contattarmi, il mio numero è nel sito dell'OIPA. Quindi quando ci sono questi casi di maltrattamento, oppure ci sono delle condizioni dove capiamo che i cani possono essere usati per combattimenti illegali, di contattarli, perché siamo tra l'altro l'unico nucleo di guardie ecozofili presenti nella provincia. E se fossero intervenuti prima, se la gente avesse segnalato prima questi cani, avremmo potuto salvarli. Cambiamo pagina, scendono ancora i positivi in provincia eblea, numeri confortanti. Intanto dal governo arriva la modifica del decreto per gli spostamenti tra comuni. Adesso ci si affida il buonsenso degli italiani, sperando che i sacrifici fatti non siano stati inutili. Scendono ancora i numeri delle persone positive in provincia eblea. Ad Acate risultano essere 73 positivi, Chiara Montegulfi 38, Comiso 171, Giorratana 6, Ispica 11, Modica 175, Monte Rossoalmo 17, Pozzallo 44, Santa Croce Camerina 17, Scicli 63, Vittoria 295 e 9 di fuori provincia. Intanto ieri sera dal governo è arrivata la modifica del decreto, ciò che aveva fatto scalpore per l'impossibilità di spostamenti per comuni nei giorni festivi, è stato modificato quasi come fosse un favore a chi si lamentava, non comprendendo del caso quasi assurdo di tutti i decessi di questi mesi terribili. Ma siamo certi che non ne risentiremo a gennaio? Restano da definire dettagli, soprattutto per evitare che l'allentamento non si trasformi in un liberi tutti. Primo fra tutti il provvedimento che sarà adottato per modificare gli spostamenti. Gli uffici legislativi di Palazzo Ghigi sono al lavoro. L'ipotesi più probabile è quella di un provvedimento ad hoc che modifichi il decreto. Certamente resterà in vigore il divieto di spostamento tra regioni, anche se in zona gialla. Resta invece da vedere se ci si potrà spostare solo tra comuni che appartengono alla stessa provincia o anche fuori provincia. Sembra tramontata l'idea di limitare la deroga ai comuni fino a 5.000 abitanti, anche per la difficoltà dei controlli. È stata avanzata anche l'ipotesi di consentire la deroga solo per il giorno di Natale. Ricordiamo che in ogni caso anche nei giorni 25, 26 e 1 gennaio sarà sempre consentito il ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. Intanto Confcommercio e Confersaccenti accolgono con favore l'avvio di una riflessione sull'opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra i comuni nella giornata del 25, 26 e 1 gennaio, così come richiesto più volte dalle due federazioni. Ormai, dicono i commercianti, è un dato di fatto che il settore della somministrazione è uno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria e sicuramente ne uscirà decimato nel prossimo futuro. Questa apertura favorirebbe certamente la frequentazione dei ristoranti nelle tre giornate interessate dal provvedimento, richiesto proprio per limitare gli ingenti danni che il settore sta registrando. Diversi psicologi a supporto di tutte le persone che si apprestano a trascorrere le festività in quarantena o in isolamento domiciliare. E' quanto comunica l'azienda ospedaliera di Ragusa, che presenta anche una stanza del tutto insolita e particolare, quella degli abbracci, guardate. Una privazione di cui ci ha fatto soffrire parecchio il Covid è di certo quella della solitudine. La pandemia ha allontanato le persone, privato i soggetti più deboli dell'affetto dei propri cari. Il coronavirus ci ha tolto gli abbracci, piccoli gesti che però chi sta vivendo un momento di difficoltà possono essere vitali. Ed è proprio pensando a queste persone che l'RSA Villa San Giovanni di Ragusa ha voluto creare la Sala degli Abbracci, un posto in cui i familiari potranno tornare a riabbracciare i loro cari nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. E' stata allestita una stanza che permette un contatto sicuro in un ambiente confortevole, scaldato dagli elementi che ispirano l'atmosfera natalizia. Chi entrerà nella Sala degli Abbracci dovrà sottoporsi al triage e seguire le norme comportamentali contenute in una guida messa a disposizione dall'azienda per evitare la diffusione del contagio. Al termine di ogni visita, la stanza viene sanificata e ariaggiata. La stessa sarà a disposizione degli ospiti dell'RSA e delle proprie famiglie per tutta la durata dell'attuale emergenza sanitaria in un'operazione al centro di un'importante riorganizzazione delle operatività quotidiane della struttura sanitaria che coinvolge la sua equipe nella gestione delle prenotazioni e dell'esecuzione degli incontri. Intanto saranno inseriti nei tre distretti sanitari dell'ASP di Ragusa 23 psicologhi coordinati dal Servizio di Psicologia Aziendale che andranno a supportare con il loro sostegno psicologico-telefonico i soggetti che si troveranno in quarantena o in isolamento domiciliare. Un'attività da vero importante, sottolinea il direttore sanitario dell'azienda, Raffaele Lia, intervenuto all'incontro che ha dato il via al suddetto progetto. Un progetto che è rivolto a tutte le persone che stanno vivendo a causa del Covid una condizione di ansia, un disagio emotivo. Inoltre alcuni di loro supporteranno la psicologia ospedaliera impegnata nella gestione dell'emergenza psicologica oltre che dei pazienti e dei loro familiari anche del personale aziendale. Ha dell'incredibile quanto accaduto ieri pomeriggio all'ospedale maggiore di Modica, teatro di un parto fuori dal comune. Una donna infatti decide di fare la doccia ed ha alla luce la propria bambina tra gli sguardi increduli di tutto il personale medico. Sentite. In ospedale, precisamente nella divisione di ginecologia, ci si arreca per partorire. Questo è certo, ma quello che è accaduto ieri pomeriggio al maggiore di Modica ha sorpreso un po' tutti. Una donna infatti ricoverata perché in gravidanza, senza avere ancora sintomi, decide di fare la doccia. Tutto nella normale routine, se non che improvvisamente si sentono delle grida provenire proprio dal bagno della divisione di ginecologia. Grida allarmanti che hanno spezzato la tranquillità del nosocomio tra infermiere che preparavano le cartelle, organizzavano il lavoro del pomeriggio, qualche ricoverata passeggiava in corsia e altre erano intente, come al solito, a scambiare due chiacchiere. Tutto interrotto appunto dalle grida disperate della donna, che non ha fatto neanche in tempo ad entrare nella doccia ed ecco che accade l'inaspettato. Avverte uno strano bruciore. Istintivamente mette le mani tra le gambe e inizia a urlare. Sono attimi di tensione. La poveretta esce dal corridoio gridando la testa. Le infermiere si precipitano pensando a un capogiro della degente e invece non era così. Era proprio la testa di un bambino. Due secondi e viene fuori una graziosa bimba di 2,9 kg. Tutto sotto gli occhi increduli dei pazienti ricoverati, dell'ausiliaria impegnata nelle pulizie del corridoio e sotto gli occhi degli infermieri che non si aspettavano una scena praticamente da film. Consiglio comunale dei toni accesi mercoledì pomeriggio in videoconferenza a Ragusa. Dopo l'approvazione di due punti all'ordine del giorno, la dura presa di posizione da parte dell'opposizione che criticano la bocciatura di diversi emendamenti e accusano l'amministrazione in dittatura. Il Consiglio comunale di Ragusa, riunitosi nel pomeriggio di mercoledì, ha preso in esame e approvato due punti all'ordine del giorno riguardanti le modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno con l'approvazione delle tariffe e il nuovo regolamento comunale della consulta giovanile di Ragusa. La nostra città, dichiarato il Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, ha un nuovo e più equo regolamento dell'imposta di soggiorno e un nuovo e più concreto regolamento della consulta giovanile. Si tratta di due atti fondamentali perché guardano avanti. Il primo migliora la gestione delle risorse da investire, iniziative utili ai fini turistici. Il secondo aumenta la partecipazione giovanile in seno alla pubblica amministrazione. Il nuovo regolamento dell'imposta di soggiorno vede ora una nuova e più equa classificazione delle strutture ricettive e quindi delle tariffe che il turista deve versare, il pagamento dell'imposta, anche nel caso di pernottamento in immobili destinati alla locazione breve e tutta una serie di aggiornamenti di leggi a seguito di modifiche alle normative di riferimento. Con il nuovo regolamento della consulta giovanile, invece, saranno i ragazzi stessi a eleggerne il Presidente, non più quindi necessariamente il Sindaco e ci saranno modalità di partecipazione più chiare e semplici oltre all'impiego delle amministrazioni a stanziare un fondo da destinare a iniziative inerenti le politiche giovanili. Crediamo che l'impegno caparbio della maggioranza abbia dato alla città due strumenti fondamentali. Assolutamente contrario alla giornata di mercoledì, invece, il Movimento 5 Stelle, che tramite il consigliere Firincelli, lamenta una dittatura da parte dell'amministrazione che supera ogni limite. Firincelli sottolinea come non è certo la bocciatura degli emendamenti presentati dai consiglieri del gruppo, per quanto apprezzati anche all'interno della maggioranza, a scatenare una reazione alla luce di quanto ascoltato durante i lavori. Firincelli, quindi, continua. Siamo ormai aditati come elementi di disturbo in seno al civico consesso. L'aria è ormai irrespirabile. Si vuole zittire non solo il dissenso, ma anche il rilievo per le evidenti castronerie politiche. Compro sotto casa perché mi sento a casa. Questo è il claim scelto da Commercio Ragusa per aiutare i piccoli imprenditori a sollevarsi dalla crisi economica. Installati in diverse zone di Ragusa, alcuni manifesti 6x3 per sensibilizzare i cittadini agli acquisti. E' entrata nel vivo la campagna provinciale di Comfcommercio denominata Compro sotto casa perché mi sento a casa per sostenere anche in vista del Natale gli acquisti nei negozi di vicinato e aiutare così le attività che tengono vive le città nella riblea e danno lavoro a tante persone. La campagna è online sul sito internet di Comfcommercio provinciale Ragusa e sui canali social della Confederazione. L'hashtag scelto per l'iniziativa è Compro sotto casa, ma non solo, proprio in questi ultimi giorni alcuni 6x3 della provincia di Ragusa sono stati tappezzati con i manifesti della campagna in questione. Nello spot con il claim Facciamo rivivere le nostre città, Compro sotto casa, che risce Comfcommercio Ragusa, si sono voluti sintetizzare i principi alla base dell'iniziativa, quelli della sostenibilità e della solidarietà, oltre a dare un messaggio di speranza e serenità per le festività natalizie. Abbiamo voluto adottare a livello nazionale e a cascata locale nei vari territori questa attività di promozione, perché chiarisce manenti, ci siamo dovuti confrontare con i numeri impietosi. L'indicatore consumi Comfcommercio infatti è sceso dell'8,1% rispetto a settembre, tonfo meno 27,7% della domanda relativa ai servizi, e ancora a novembre il PIL in calo del 7,7% mensile e del 12,1% annuo. La Confederazione sta mettendo in campo tutte le proprie risorse per aiutare il sistema ad affrontare le conseguenze economiche della pandemia, da un lato con l'informazione di servizio, per spiegare nei dettagli i provvedimenti adottati dal Governo e rispondere alle domande sulle procedure da seguire e chiedere dubbi. Dall'altro l'attività più sindacale di proposte e sollecitazioni al Governo per dare voce ai settori del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti colpiti dalla crisi. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.